E se ci fosse il cielo in una stanza è una tra le domande alla base della mia ricerca. Sì, perché noi passiamo più del 90% della nostra vita in ambienti indoor, ridere, giocare, scherzare, ascoltare ricercatrici e ricercatori che parlano di scienza. Certo è che è molto più facile farlo se siamo in un ambiente che ci crea comfort e benessere, che non c'è sempre, non è sempre assicurato, perché possiamo avere dei livelli di umidità relativa e dei livelli di inquinanti che sono aerodispersi nei nostri ambienti. Questo è una causa del consumo energetico degli edifici, è ben il 40% rispetto a tutte le risorse globali, quindi abbiamo necessità di fare edifici sempre più sigillati, che però possono portare quindi ad avere dell'inquinamento indoor, che non è controllato. Che cosa fare? Aggiungiamo dei sistemi attivi, ma anche loro richiedono energia per poter funzionare. E da qui l'idea della ricerca, lo sviluppo e la caratterizzazione di materiali da costruzioni, come malte e finiture multifunzionali che passivamente riescono ad ammigliorare qualità dell'aria, comfort e benessere, con ridotti costi energetici, grazie alla loro intrinseca capacità di essere disinquinanti. Questo è stato poi parte di un brevetto che ho sviluppato all'interno del Dipartimento Simau con il gruppo di ricerca di Scienze e Tecnologie dei Materiali. In particolare, nella mia ricerca ho sempre voluto studiare quella che è la sostenibilità dei materiali, come questi possono interagire all'interno degli ambienti, perché è proprio l'interazione tra i materiali e l'ambiente la chiave del nuovo paradigma. Sì, perché la costituzione di questa malta è composta, anziché di aggregati convenzionali, abbiamo degli aggregati adsorbenti che permettono di catturare e rilasciare vapore d'acqua, quindi funzionare come tampone aeroscopico, e dall'altra parte permettono di adsorbire quelli che sono gli inquinanti in un reattore a nano e microscala che consente così di avere degli ambienti più confortevoli. Testiamo la nostra malta in laboratorio, vediamo qualche numero e confrontiamola, sia con una malta di riferimento, ma anche con dei prodotti commerciali, cioè quello che attualmente noi abbiamo sulle nostre pareti. Innanzitutto, aver cambiato la formulazione e ad aver aggiunto dei materiali, degli scarti industriali non pericolosi, ci permette di avere anche delle proprietà meccaniche, cioè proprietà tradizionali, che sono paragonabili a quelle della malta commerciale. Un'altra importante proprietà è la porosità della nostra malta, perché grazie a questa porosità la malta riesce a respirare, cioè c'è un'elevata traspirazione di vapore d'acqua, ma c'è anche la capacità di poterlo assorbire e desorbire all'occorrenza. Testiamola anche per quanto riguarda le proprietà disinquinanti. Aggiungiamo un agente fotocatalitico, un mineralizzatore, e vediamo come effettivamente c'è la riduzione degli inquinanti più pericolosi e la disgregazione in cosa invece è meno pericoloso per la malta. Come ultimo, ma non per ultimo, vediamo le proprietà adsorbenti e abbiamo visto come la malta multifunzionale riesce non solo ad adsorbire, ma riesce anche a mantenere nel tempo questo adsorbimento, perché l'abbiamo stressata, abbiamo fatto più carichi e abbiamo visto come si continua ad adsorbire, ma anche continua ad adsorbire alla stessa velocità rispetto ai primi adsorbimenti. Quindi, pensiamo in grande, testiamo la nostra finitura, il nostro brevetto, su degli intonaci, dei substrati che sono commerciali. Lo possiamo fare innanzitutto, però dobbiamo prima verificare quelle che sono le proprietà del nostro brevetto su queste applicazioni, su questi substrati, e li confrontiamo con dei sistemi commerciali. Abbiamo visto come si mantiene un aumento di quella che è la permeabilità, si mantiene un aumento di quella che è la traspirabilità al vapor d'acqua e un proprietà di tampone croscopico. Allo stesso tempo, continuiamo ad avere le nostre proprietà adsorbenti, le nostre proprietà disinquinanti. Siamo andati quindi, grazie al progetto Mammut, in un ambiente pilota, quindi siamo molto vicini alle vostre classi. Applichiamo in questo ambiente, siamo, è il laboratorio del Dism, ma sempre della nostra università, dove siamo riusciti ad applicare su una parete, tre metri per tre metri, uno stesso sottofondo commerciale. Poi siamo andati ad applicare sia la nostra malta multifunzionale, sia una finitura commerciale. Abbiamo poi diviso i due ambienti, contigui, ma comunque all'interno dello stesso box, così da avere due differenti condizioni microclimatiche. Siamo riusciti a controllare e modificare queste condizioni microclimatiche, cioè abbiamo noi cambiato temperatura, umidità relativa e presenza di inquinanti all'interno dei due ambienti. Siamo riusciti a fare questo, controllare le varie cose e quindi possiamo anche confrontare risultati dei vari adsorbimenti e dei vari carichi di inquinanti. Prima cosa, l'umidità relativa. Dove è presente la malta multifunzionale abbiamo una cinetica molto più lenta di assorbimento a parità di emissione, quindi questo significa che la nostra malta assorbe di più, assorbe più umidità e riesce anche ad esorbirla nel tempo. Abbiamo anche caricato quello che è un inquinante all'interno dei due ambienti e abbiamo visto come nell'ambiente dove è presente la malta multifunzionale non solo si diminuisce l'evento di picco, ma nel tempo questa concentrazione resta sempre più bassa. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo applicare la nostra malta multifunzionale su finiture, su ambienti in tor, in questa stanza, nelle vostre aule, nelle nostre case, oppure su pannelli che sono prefabbricati. Questo permetterà così di avere un sistema che passivamente va ad aiutare e riesce a mantenere livelli di umidità relativa che sono idonei e ad aumentare il comfort e il benessere degli occupanti. Rispetto a quelle che sono già in commercio, riusciamo in una finitura ad avere più funzioni e così è possibile anche avere il nostro cielo nella stanza.